In arrivo dalla Regione 2 milioni e 500 mila euro per i lavori di completamento della Cilentana, per l'attuazione dell'intervento due giorni fa è stata sottoscritta la Convenzione tra la Regione Campania e la provincia di Salerno, nell'ambito del piano degli interventi del Patto per lo sviluppo della Campania. Nel marzo scorso erano iniziati nel Comune di Agropoli i lavori di ricostruzione parziale e consolidamento strutturale del viadotto chiusa sulla strada scorrimento veloce strada provinciale 430 variante alla strada statale 18. Al taglio del nastro che aveva avuto luogo presso il cantiere della Cilentana, nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli Sud e Pregnano Cilento, avevano partecipato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora, l'ex sindaco di Agropoli Franco Alfieri, il consigliere provinciale con delega alla viabilità Paolo Imparato e diversi amministratori locali. L'importante arteria, interrotta dal febbraio 2014 a causa di un dissesto idrogeologico, con il coinvolgimento di parte della struttura del viadotto chiusa, collega le aree a nord di Salerno con l'alto e il basso Cilento. In conseguenza di tale chiusura, l'intero traffico veicolare è stato dirottato sulla strada alternativa a strada provinciale 45, con forti disagi provocati dal percorso tortuoso e pieno di curve. Successivamente la Regione aveva bloccato un finanziamento di circa 8 milioni di euro per garantire gli interventi sulla strada provinciale 430, che è la più importante tra quelle gestite dalla provincia di Salerno. Nel dicembre 2016 si è tenuta poi la cerimonia di inaugurazione per la riapertura della cilentana al traffico veicolare.